Non mancano nell'Aretino le occasioni per poter assistere alla rappresentazione della natività con i presepi viventi. I primi ad uscire saranno quello nel borgo di Oliveto, Civitella in Valdichiana, e Castiglion Fiorentino, sempre in Valdichiana. Entrambi, domenica 17 dicembre, poi si replica il 26. Ad Oliveto si inizia alle 15.30 a Castiglion Fiorentino, alle 17. In entrambi i casi saranno molti i figuranti, tutti i volontari, coinvolti nella ricostruzione degli antichi mestieri, ma anche scene tipiche della società contadina della nostra terra in un viaggio tra gli antichi mestieri, le vecchie tradizioni che rappresentano il lavoro faticoso delle mani dell'uomo e ovviamente la rappresentazione della natività. A Cortona, invece, dopo l'anteprima in centro, il presepe vivente torna nella sua tradizionale rappresentazione a pietraia. L'unico in uscita proprio il giorno di Natale, il 25, e poi in replica il 26 dicembre, il primo 6 e 7 gennaio. Un altro presepe vivente sta scaldando i motori, quello delle ville Monterchi in Valtiberina. Si comincia il 26 dicembre, si replica il 30 e successivamente il primo 6 e 7 gennaio. Al tramonto prenderanno vita le 57 scene e un percorso lungo più di un chilometro ambientato nell'anno zero. Rimanendo in Valtiberina, il presepe vivente a Gricignano, comune di Sansepolcro, anche qui uscita il 26 dicembre e replica il primo 6 e 7 gennaio.